Ciao 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 a tutti, siamo qui per il backstage di una cosa che si farà inerente alla webserie più meravigliosa che c'è che non si dice più meravigliosa che è la principessa è... in un altro castello mi piace detta in due parti qui c'è il green screen io mi sono... mi sono, ma anche questo, oggi l'italiano non è di casa perché si vede tutto così? no no aspetta, no no l'ho messo male ecco io mi sono abbigliato, no mi hanno abbigliato loro guardate c'ho una corona in testa e c'ho tutto abbigliato io sarò un personaggio del sesto episodio quindi immagino che questo qua lo vedrete molto avanti questo video cioè ma quando lo vedrete voi non vi sembrerà avanti perché lo vedrete proprio in quel momento qui Luca sta già preparando esatto, sta litigando col fondale sta litigando col fondale ecco qui i drankenotteros sono dei veri professionisti si vede proprio e io faccio il personaggio di pestilenza e poi ci saranno i vari cavalieri che ci sono guerra, morte, fame vedrete, vedrete, sarà un episodio molto 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 bello comunque voi dovreste aver seguito tutti gli episodi seguiteli tutti gli episodi e se non avete seguito la prima recuperate anche la prima stagione tutti, tutti quanti e guardate Luca è il lavoro esatto ecco qua sta sistemando tutto allora intanto guardate qui la serietà di questa webserie perché ci sono tutti i storyboard dietro a tariffe telefoniche vabbè, vabbè quello non era necessario da far vedere beh, facciamo vedere che preserviamo gli alberi comunque qua c'è tutto un quaderno non pensate che ci sono solo quelle pagine lì e basta perché ci sono tutti gli episodi già lì ci sono tutti i storyboardati tutti i storyboardati così da poi poter impazzire a non riuscire a seguire le storyboard invece di impazzire a non averle comunque lui mi sta riprendendo qua stiamo girando le cose in diverse inquadrature diverse sto ripetendo le scene diverse volte in questo bel costumino eh, il costumino, aspetta, adesso do la telecamera a lui così vedete un po' meglio un'anteprima di pestilenza ecco salve! con delle scarpe ovviamente delle scarpe non sono a tema beh, sono in tinta se non altro ecco e poi vi do un altro indizio perché vedete qua delle carte per terra aspetta, voi immaginatele però così perché in realtà forse non sarebbero da scala 40 le carte ma comunque vabbè, lasciamo perdere comunque questo lo saprete poi lo saprete poi all'interno sticismo che a Milano ci sono i soliti tipo 70 gradi oggi sì, molto caldo però ci dà aiuto ogni tanto l'aria condizionata riusciremo forse a sopravvivere ecco, ecco sto recitando, sto recitando niente, un salutone, no? ciao! e prima o poi lo vedrete sul canale youtube di Drunkenotters la principessa è in un altro castello 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 la principessa è la principessa è in un altro castello Grazie a tutti.